cari amici ci siamo ricordate vi avevo fatto vedere questo il menabò del libro roma sotto sopra vi ho anche detto che abbiamo cambiato il titolo ed oggi finalmente abbiamo il libro tra le mani eccolo qui roma da sotto a sopra meraviglie misteri e curiosità di roma con una intervista al mio amico carlo verdone trecento quaranta pagine circa 350 argomenti circa 500 fotografie tutte a colori c'è una particolarità non si vede una fotografia tranne alcune di carlo labruzzi ma ci sono dei codici nella parte di fondo se noi andiamo a puntare il nostro cellulare sul codice qr ecco qui che viene fuori una bella fotografia la relativa fotografia che possiamo ingrandire prendere dei particolari leggere più comodamente la didascalia sottostante e vederla anche se sul computer se volete oppure su un televisore beh è una particolarità unica non mi sembra di averne viste tanti di questi libri in circolazione con questa particolarità in questo modo è stato possibile creare un libro di tante pagine di tantissime fotografie a colori molte delle quali anche assolutamente inedite che io voglio proporvi perché è un po il compendio la risulta di tanti anni di lavoro quest'anno festeggio il quaranticinquesimo anno nella roma sotterranea questo libro è formato da tre libri in pratica un sunto di alcuni argomenti sotterranei una bella quantità di ambienti sopra quindi ecco perché roma da sotto a sopra è una miriade di curiosità buona lettura ciao